cari amici di mille un'avventura riprendiamo nuovamente unity e cerchiamo di continuare quel gioco che vogliamo creare per gli iscritti un gioco multiplayer ambientato su un terreno su cui si muoveranno determinate unità e che cosa avevamo ottenuto nell'ultimo video eccolo qui terreni esagonali crescono eravamo riusciti a creare questi sentieri che collegavano diversi edifici ovviamente è un primo abbozzo di terreno per cercare di avere un'idea di quello che potremo ottenere che cosa vogliamo fare in questo video vogliamo aggiungere delle unità che si muovano e per fare questo abbiamo bisogno dei modelli di queste unità visto che noi non produciamo nulla di tridimensionale o di grafico andiamo torniamo sul sito di Kyle Lusberg da cui avevamo già ottenuto gli esagoni con gli edifici sopra e vedete che sullo stesso sito si trovano anche questi simpatici personaggi tutti nello stesso stile con le braccine senza gambette e con una grossa testa e sono personaggi con un barbaro un cavaliere un arciere o balestriere e un mago una maga e si possono scaricare gratuitamente ovviamente se volete supportare il creatore o la creatrice perché non ho ancora capito chi si è un creatore o una creatrice potete tranquillamente comprarli ecco quindi c'è sempre la possibilità di fare una piccola o grande donazione perciò questi personaggi sono quelli che utilizzeremo vedete in medieval builder pack abbiamo ottenuto questi esagoni che stiamo utilizzando per creare i sentieri e tutti gli edifici è possibile anche creare delle mura con degli ingressi delle porte e qui invece trovate in kai kit dungeon pack trovate i personaggi ecco ovviamente i personaggi ce ne sono di vari tipi per esclusiva per chi fornisce dei contributi economici ci sono gli orchi vedete qua però ci sono per quello che serve a noi utilizzeremo gli scheletri e utilizzeremo questi quattro personaggi che sono gratuiti appunto se ma ripeto si può contribuire più si contribuisce economicamente più altri assets verranno creati oltre ovviamente ai modelli ci vogliono le animazioni e anche queste sono state fornite da kyle usberg e ci sono tantissime vedete che lungo elenco di animazioni camminata corsa salti combattimenti vari attacchi con la spada con con l'arco con con l'ascia e così via quindi ci sono tutte le possibili animazioni e vedete ecco qui si vede più o meno l'animazione di scalata e l'attacco con con la spada a una mano a due mani lo scudo e così via quindi abbiamo tutto quello che serve abbiamo scaricato tutto e lo abbiamo portato nel nostro unity e adesso vediamo come mettere assieme tutto questo sul nostro terreno per far muovere semplicemente un'unità cominciamo proprio da qualcosa di base qualcosa che sia facile da realizzare ecco qui vedete i vari modelli ci sono gli scheletri e poi il cavaliere se non sbaglio il cavaliere ha una ha un elmo che si può ecco vedete si possono anche animare queste questi modelli ci sono poi le animazioni vere e proprie della camminata ora ho importato dovrebbe essere questo ecco importato questo modello neutro cerchiamo di centrarlo che ho già messo all'altezza giusta sul terreno e poi chiaramente questo modello va sostituito con quelli che vedete laggiù questo è un modello così tanto per fare una prova e ci sono appiccicati a questi modelli abbiamo appiccicato varie cose per esempio abbiamo appiccicato un animator che in unity è l'oggetto o meglio la proprietà che attacchiamo al game object per creare il nostro la nostra animazione come si fa a creare un animator è presto fatto basta cliccare sul pulsante che vedete qui sopra la mia testa add component e poi si va a cercare animator ovviamente c'è già un animator appiccicato a questo modello quindi non lo aggiungiamo e poi bisogna specificare il controller che gestirà tutte le animazioni e vediamo questo controller com'è fatto ecco vedete qui si può anche un po' ingrandire così forse riuscite finalmente a vedere qualcosa come ho già mostrato in tanti altri video anche di anni fa il sistema non è cambiato in unity le animazioni sono semplicemente dei blocchi che il produttore del modello e delle animazioni ha fornito e noi possiamo andare a cercare ecco vedete qui il nostro modello qui in basso quello giallo contiene al suo interno tutte le possibili animazioni si possono prendere queste animazioni collegate al modello e trascinare sull'animator sulla finestra dell'animatore io ho trascinato l'animazione di camminata quella che fa vedere che il personaggio anche se non ha le gambe cammina almeno le braccia le muove e poi l'animazione di idol quella che in qualche modo fa oscillare un pochino il personaggio anche se sta fermo per non farlo stare lì impassibile come uno stocca fisso e vedete che qui c'è entry questa questo rettangolino verde che è la ci dice qual è la prima animazione che viene eseguita sul modello e come vedete questa freccia arancione porta direttamente all'animazione di idol poi notate che qui sotto c'è un triangolino perché scusate ma devo fare due modifiche che non mi non avevo visto ecco qui c'è un altro triangolino che fa ripetere l'animazione di idol quanto vogliamo volendo potremmo mettere una sequenza di animazioni che vengono eseguite a rotazione senza bisogno di programmare nulla in questo caso però è sempre la stessa che viene continuamente ripetuta appena il modello viene creato e però cosa deve succedere noi vogliamo far muovere questo modello quindi cliccheremo sulla mappa per dire al modello al nostro personaggio vai lì vai là e allora ho messo vedete qui any state rappresenta uno stato qualunque ho messo dei trigger che sono dei degli eventi che generati dagli script tra poco vedrete come si fa vanno a iniziare una particolare animazione per esempio ho creato un trigger di walk che è questo di camminata e un trigger di stop e da any state da qualunque stato noi ci troviamo li dipende dall'applicazione ovviamente ci saranno degli stati in cui non si può andare direttamente se il modello è fermo probabilmente non vogliamo farlo immediatamente correre a grandissima velocità lo potremmo prima far passare a un'animazione di camminata e dall'animazione di camminata quella di corsa quindi sono tutte cose che vanno diciamo impostate correttamente però in questo caso nel nostro esempio molto semplice da qualunque stato se verrà triggerata la camminata verrà seguito questa freccia e verrà attivata l'animazione di camminata che a sua volta continuerà a eseguirsi finché non ordineremo al modello di fermarsi e a quel punto quando triggereremo lo stop verrà eseguito idle da ogni stato che noi abbiamo in un caso si va sulla camminata nell'altro caso sull'idol e quindi è tutta una cosa molto semplice da realizzare con l'animatore senza bisogno di programmare nulla però adesso ovviamente qualche linea di programmazione dovremmo scriverla perché a noi piace di più animare con gli script con la programmazione noi siamo dei programmatori non siamo né grafici né modellatori e quindi dobbiamo ricorrere al talento di kyle loosberg ora andiamo a vedere un attimo cosa succede come funziona e poi andremo a vedere lo script come lo abbiamo creato un'altra cosa che abbiamo appiccicato al nostro personaggio oltre all'animator che gestisce le animazioni con lo schema che avete visto c'è anche lo script che poi ripeto vedremo adesso andiamo a eseguire il nostro gioco ecco vedete vedete che noi abbiamo questa bella schermata volevo far sparire vabbè abbiamo la schermata quella che abbiamo già visto con tutti i nostri esagoni e vedete che al centro a parte i pupazzetti qua che non c'entrano niente al centro dello schermo ho indicato una crocetta è una semplice x e il nostro personaggio vedete qui in questo momento si nota poco perché l'animazione è molto scusate gli scatti ma siamo molto vicini l'animazione è molto lenta molto lieve però vedete che le braccia un po' si muovono questa è l'animazione di idol l'attesa che il nostro personaggio sta aspettando che gli diamo un ordine a questo punto ci mettiamo per esempio in questa bella posizione qui e clicchiamo e adesso clicchiamo ah scusate avevo il mouse in un'altra posizione ecco appena ho cliccato vedete che il nostro personaggio cammina vedete le braccine che si muovono ovviamente un personaggio molto particolare non ha le gambe e quindi come camminata non è il massimo probabilmente la prossima settimana andiamo a vedere un po' di animazioni su personaggi più realistici di questo comunque un bel personaggino molto caratteristico molto particolare va bene questo per il gioco che vogliamo realizzare vedete se io clicco in una determinata posizione il nostro personaggio si volta verso quel punto per esempio in questo caso sto puntando tra quelle rocce laggiù il personaggio si orienterà verso quel punto e camminerà fino a quel punto con una particolare velocità ora clicco e vedete che si è girato e si è messo a camminare e se adesso clicco qui si gira si avvicina e quando raggiunge il punto più o meno si ferma e così anche in questo caso e possiamo ovviamente guardare tutto dall'alto come forse è meglio e vedete che adesso si sta spostando verso il punto che ho indicato quindi tutto molto essenziale molto semplice ma quello che vogliamo fare appunto avere un primo abbozzo che poi eventualmente lavorandoci può diventare qualcosa di più complicato più soddisfacente anche dal punto di vista grafico e delle animazioni però funziona è quello che vogliamo non ci sono ancora le collisioni con gli oggetti perché se adesso clicco qui vedete che sembra che entri nell'edificio e poi ne esce in qualche modo in questa segheria e quindi le collisioni con gli oggetti non sono ancora previste però diciamo che non saranno impossibili da realizzare perché gli esagoni sono molto schematici e ci sono i sentieri che possono essere attraversati e gli edifici adesso sta passando attraverso la foresta vedete è passato attraverso come un fantasma e si è fermato lì e possiamo anche cliccare qua e attraverserà il castello bene andiamo a vedere come abbiamo realizzato tutto questo è sprofondato dentro una collinetta e adesso attraverserà senza problemi il nostro castello andiamo a vedere lo script perché è questo che probabilmente ad alcuni può interessare come è stata realizzata questo tipo di animazione in tanti altri video del passato abbiamo già mostrato come si possono fare queste cose però ripetere può essere sempre utile soprattutto per chi si è perso i vecchi video ecco vedete qui c'è il nostro grandiamo un po così si vede meglio il nostro script tutte cose quelle iniziali che vengono create automaticamente da unity appena viene generato uno script invece qui cominciate a vedere due righe che vanno a creare degli delle variabili floating point cioè variabili reali diciamo così che sono speed adesso ho usato l'inglese ma è la velocità con cui si muove il pupazzetto e rod speed è la velocità di rotazione con cui ruota per indirizzarsi verso il punto che abbiamo cliccato e questi sono pubblici perché eventualmente vogliamo cambiarli direttamente da editor dentro a unity per evitare ogni volta di riaprire il codice sono parametri che possiamo impostare in modo diciamo così fine quando siamo nell'editor è inutile riscrivere sempre tutte queste variabili poi vedete qui che c'è un private questo non è pubblico perché non è necessario che si veda nell'editor è l'animatore che tra poco inizializzeremo ci serve per triggerare le varie animazioni avere una variabile che ci dica qual è l'animatore che dobbiamo triggerare altre variabili private il punto di destinazione dove deve arrivare il nostro pupazzetto e una variabile booleana che può essere vera o falsa che ci dice se sta camminando oppure se si è già fermato così eseguiremo certi pezzi di codice se sta camminando oppure altri finalmente rispetto ad altri video che abbiamo mostrato anche lo start qui lo utilizziamo perché dicevamo che la variabile animator che vedete qui in realtà non è stata inizializzata in questa posizione l'andiamo a inizializzare nella funzione start che viene eseguita solo quando l'oggetto cioè il nostro personaggio viene creato e allora semplicemente andiamo a mettere in questa variabile l'animatore che abbiamo appiccicato al modello si usa sempre get component e tra apici animator che è l'oggetto il sistema sa che dovrà andare a prendere l'animatore appiccicato al game object e metterlo in questa variabile poi noi faremo con questa variabile tutto quello che è necessario l'altro metodo importante che invece viene eseguito ogni volta che viene ridisegnato lo schermo il metodo update che cosa facciamo fare in questo metodo ecco ogni volta che viene ridisegnato lo schermo noi dobbiamo fare in modo che il pupazzetto si stia muovendo per esempio se sta camminando o che attenda il comando del del giocatore e il comando del giocatore viene recuperato grazie a questa istruzione if vedete ho scritto input punto get mouse button down 0 questa funzione che è dell'oggetto input e va a leggere il mouse e se è stato premuto il pulsante quello di sinistra e che corrisponde all'indice 0 allora verrà eseguita tutta questa serie di istruzioni tra parentesi graffe cosa c'è in questa serie di istruzioni perché qui si lamenta non so perché ci sono sti puntini non capisco che problemi abbia comunque vedete abbiamo creato un oggetto strano una variabile strana che si chiama raycast hit serve per avere una variabile dove metteremo le informazioni del nostro click quindi contiene tante informazioni di cui alcune verranno lette e altre no come facciamo quindi noi abbiamo cliccato il abbiamo premuto il tasto sinistro del nostro mouse quindi abbiamo cliccato sullo schermo e nella posizione centrale vogliamo capire dove abbiamo cliccato e per capire dove abbiamo cliccato come ripeto in tanti altri video precedenti che potreste anche andarvi a cercare a recuperare perché sono sempre video su unity che chi è interessato può sicuramente vedere con giovamento vedete che c'è un'altra istruzione if cosa fa questa istruzione if è molto lunga come condizione che andiamo a verificare comunque semplicemente physics ha a che fare con la fisica evidentemente di un gioco raycast va a sparare un raggio che può incontrare degli oggetti oggetti che hanno dei collider intorno cioè delle superfici che ci dicono l'occupazione di quell'oggetto sul terreno che avete visto prima c'è tutto un collider spalmato sopra un cubo praticamente enorme e chiaramente più semplice usare un un unico cubo purtroppo che fa purtroppo invece di fare un raycast su ogni singolo blocco del terreno su ogni singolo esagono purtroppo volevo dire gli esagoni sono tanti e se facessimo una cosa del genere diventerebbe ingestibile sarebbe troppo lento invece con un raycast che va solo a sondare dove abbiamo cliccato sul terreno diventa tutto molto più efficiente e questo raycast come lo spariamo lo spariamo vedete con questo raggio qui si va a prendere l'oggetto camera quella proprio la telecamera che sta riprendendo la scena la principale camera e praticamente spariamo un raggio verso la posizione del mouse vedete input punto mouse position noi conosciamo la posizione x y in due dimensioni del mouse e spariamo un raggio a partire dalla telecamera secondo quel punto che abbiamo sparato se scegliessimo un altro punto ecco il raggio sparato avrebbe delle inclinazioni diverse questo 100 che vedete qui in fondo è la lunghezza del raggio che abbiamo sparato che più di 100 100 è molto lungo in queste unità che stiamo usando quindi è come dire spara un raggio infinito e nella variabile hit che vedete qui che è quella del tipo raycast hit andiamo a recuperare tutte le informazioni del nostro raggio che avrà colpito il terreno a meno che non stia sparando in cielo colpirà il terreno se sparassi in cielo non ci sarebbe nessuna collisione e di conseguenza nessun punto verrebbe restituito questa parte del codice non verrebbe eseguita quindi tutto questo che vedete adesso che ho evidenziato in blu viene eseguito solamente se il terreno è stato individuato il punto dove abbiamo cliccato questo punto destination la variabile che avete visto prima che è un vettore in tre dimensioni un insieme di tre coordinate diventa uguale al punto di lead point in realtà il raycast hit contiene tante informazioni non solo la posizione del punto della collisione ma anche per esempio il vettore perpendicolare alla superficie che abbiamo colpito quindi ci sono tante informazioni ma a noi serve solo sapere il punto che abbiamo individuato poi qui ho messo è inutile questo perché tanto il blocco il collider che ho messo è effettivamente a quota 1 e qui forzavo questa cosa niente fate conto che non ci sia e se è stato individuato un punto dove andare poniamo la variabile booleana walking a true il personaggio comincerà a camminare e andremo anche a triggerare l'animazione di camminata vedete c'è l'oggetto o meglio la componente animator del nostro personaggio e gli abbiamo richiamato la funzione set trigger specificando che vogliamo attivare il trigger walk che si chiama così e quindi il personaggio oltre a fare altre cose che adesso vedremo comincia anche a camminare senza le gambette ma con le braccia che si muovono adesso walking è true se non avessimo cliccato viene semplicemente interrotta l'esecuzione di update perché qui c'è scritto in questa riga che ho evidenziato che se non sta camminando il personaggio semplicemente esci da questa funzione ma se abbiamo cliccato e walking è diventato true vengono eseguite queste altre linee che vedete allora innanzitutto e finiamo perché ormai sono poche righe che dobbiamo spiegare la prima cosa che facciamo è eseguire una sottrazione vettoriale tra il punto di destinazione e il punto in cui si trova attualmente il nostro personaggio transform punto position è una variabile del nostro game object che ci dice dov'è l'oggetto dove si trova la differenza facendo la differenza noi otteniamo un vettore una freccia che dal punto in cui si trova il personaggio punta verso la destinazione quindi ci dice dove dobbiamo andare ora se scopriamo che questo vettore è minore di un certo come lunghezza è minore di questa 0,1 diciamo 10 centimetri per capirci anche se poi le unità sono diverse allora vuol dire che il personaggio è arrivato molto vicino alla destinazione e si può fermare quindi questo vettore dir è un vettore che ci dice in che direzione verso dobbiamo andare verso la nostra destinazione ma anche l'informazione di della distanza che si calcola proprio grazie alla proprietà magnitude che vedete qui allora facciamo finta di essere arrivati a destinazione a 10 centimetri dal punto che abbiamo cliccato cosa dovremmo fare dovremo interrompere la camminata quindi la variabile boneana walking diventerà falsa dobbiamo poi dire di interrompere l'animazione di camminata triggerando l'animazione di stop e il nostro personaggio entrerà nella fase di idol e poi possiamo terminare qui il personaggio si è fermato non c'è bisogno di fare altro però fate conto di essere ancora lontani il nostro personaggio deve continuare a camminare e allora cosa facciamo innanzitutto la direzione che ha una certa lunghezza la direzione in cui ci stiamo incamminando la normalizziamo cosa vuol dire se era 10 metri la normalizziamo a un metro la facciamo diventare un vettore unitario perché perché adesso dobbiamo far muovere passo passo il nostro personaggio verso la destinazione quindi che facciamo come abbiamo visto in altri video precedenti di unity che hanno già trattato cose di questo genere andiamo a prendere la posizione del nostro personaggio e lo facciamo spostare sommando che cosa sommando un vettore che ha la direzione giusta ma che ha anche un valore un passetto gli facciamo fare un piccolo passo e questo piccolo passo viene calcolato conoscendo la velocità che vogliamo dare al nostro personaggio per il tempo che è passato dal frame precedente quindi ad ogni frame che passa mettete che sia passato un decimo di secondo esagerato ma fate finta ecco è passato un decimo di secondo se la velocità è di due metri al secondo quindi una sta correndo moltiplicando due metri al secondo per un decimo di secondo si ottiene 20 centimetri quindi il nostro passo dovrà essere fatto nella direzione giusta ma essere solo 20 centimetri e quindi la posizione varierà nella direzione giusta di soli 20 centimetri la direzione giusta è data da dir la lo spazio è dato da questa parte qui da questa moltiplicazione qua poi cosa dobbiamo fare abbiamo già spostato l'oggetto verso la direzione giusta però se non gli diciamo anche di puntare di orientarsi alla direzione giusta magari potrebbe camminare tutto di lato potrebbe essere tutto storto oppure camminare all'indietro come un gambero o di lato come un come un granchio allora cosa si può fare dobbiamo non solo trasformare la posizione di questo personaggio ma anche la sua rotazione e la rotazione la eseguiremo intorno all'asse verticale visto che questi personaggi ovviamente non si inclinano di lato ma ruotano su se stessi e per fare questo qui devo un po ridurre ecco per trasformare la rotazione in modo che sia quella giusta esiste questa funzione quaternion è un particolare oggetto in che ha quattro numeri che in diciamo in grafica tridimensionale è molto utilizzato i quaternioni sono dei numeri particolari praticamente voi sapete tutti che esistono i numeri reali che sono quelli che noi qui chiamiamo float poi esistono i numeri complessi che sono una coppia di numeri reali i quaternioni sono quaterne di numeri reali e sono stati inventati a un certo punto perché servivano effettivamente e noi continuiamo a usarli adesso anche nei videogiochi perché queste quaterne di numeri reali sono molto utili nelle rotazioni degli oggetti quando si deve ruotare qualcosa quindi esiste in unity una serie di funzioni che si rifanno questi quaternioni in particolare questa funzione look rotation fa in modo che il nostro quaternione guardi verso la destinazione spieghiamola così che diventa più facile quindi questo look rot è un quaternione che guarda verso la direzione dove dobbiamo andare ma noi non dobbiamo immediatamente girarci verso la direzione se siamo puntati nella direzione opposta vogliamo che piano piano il nostro personaggio ruoti e poi a un certo punto compiuta l'intera rotazione continuerà a muoversi senza più ruotare però non vogliamo che ci sia uno scatto molto rapido e allora si può usare questo questa funzione che si chiama slurp è una interpolazione lineare nome complicato per dire che noi abbiamo una rotazione iniziale una rotazione finale e non vogliamo arrivarci direttamente alla rotazione finale quindi specifichiamo che tipo o scusate che tipo di passetto vogliamo fare verso la giusta direzione e per calcolare il passetto andiamo sempre a prendere la velocità di rotazione che abbiamo selezionato e la moltiplichiamo per time appunto delta time che è il tempo trascorso dal frame precedente e quindi piano piano un grado dopo l'altro quello che sarà il nostro personaggio si volta verso la direzione giusta e magari arriverà la direzione giusta prima di arrivarci quindi comincerà a ruotare un pochino mentre cammina mentre comincia a spostarsi verso la direzione verso il punto di destinazione ecco vedete lo script è tutto qua sono cose che abbiamo già visto in altri video di qualche anno fa probabilmente ebbene ogni tanto ripassare magari nuovi scritti che sono interessati a unity hanno seguendo questa spiegazione capito qualche altra funzione che magari non conoscevano e quindi torniamo a unity eccolo qui allora il nostro personaggio a questo punto ci metteremo uno dei uno dei personaggi che vedete qui dietro magari quello il cavaliere magari gli metteremo in mano anche una spada uno scudo così diventa qualcosa di un po' più interessante e poi questo cavaliere lo faremo muovere e camminerà lungo questa superficie vedete ecco dato che il cubo che sto usando per le collisioni dei click non si vede in realtà anche al di fuori del nostro terreno se vado a cliccare qui vedete che ci va lo stesso e non cade giù perché il il cubo è un po' più grande però non importa a noi interessa in qualche modo che il nostro personaggio si muova e poi metteremo delle limitazioni per farlo muovere solo sul terreno in modo che magari cada giù quando gli esagoni finiscono e poi cercheremo di mettere anche delle limitazioni così il personaggio non attraverserà come in questo caso vedete le staccionate o addirittura le pietre questo però si fa un passo successivo non è neanche tanto difficile e lo faremo una delle prossime volte piano piano settimana dopo settimana stiamo costruendo questo giochetto bene se avete delle domande su quanto è stato spiegato qui sotto in nei commenti sbizzarrite vi chiedete fate anche eventualmente delle osservazioni suggerite cose che si possono fare in modo più semplice e a me adesso non resta che ringraziarvi per l'attenzione e ci si rivede in un prossimo video in una prossima diretta ciao a tutti